Buon pomeriggio a tutti, siamo all'interno di un format immaginato dalla terza editore con il Comune di Padova e l'Università di Padova per il secondo Festival della Salute globale che avverrà per l'appunto a Padova nel novembre prossimo dal 12 al 15. Il confronto di oggi vede protagonista il professore Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Paolo Possamai, sono il direttore dei Quotidiani Veneti del gruppo Gedi, tra l'altro Mattino di Padova, che è partner dei promotori del Festival appunto a Padova. Professore, il nostro incontro di oggi è intitolato Gli impatti demografici post-coronavirus. Come sta insieme la demografia con il Covid-19? Cioè che cosa dobbiamo attenderci da questa pandemia in scala nazionale e sulla scena più larga internazionale? Sì, dipende un po' da qual è la chiave di lettura che adottiamo, cioè su quale fenomeno andiamo a leggere l'impatto della pandemia. Sicuramente c'è l'impatto dell'emergenza sanitaria che quindi agisce anche sulla parte più preoccupante, che è quella che ha portato poi i paesi a bloccarsi anche dal punto di vista sociale e economico, che è quella della letalità dell'epidemia stessa. E poi però ci sono appunto le conseguenze economiche, abbiamo già visto le stime sull'impatto rispetto al prodotto interno lordo e poi c'è il rischio soprattutto che l'emergenza sanitaria si trasformi in emergenza economica e vada ad accentuare l'emergenza demografica, che non è una vera emergenza perché siamo uno dei paesi che da questo punto di vista, cioè di squilibri demografici, non c'è nessuno che ci batte sulla capacità di accentuarli con il rischio di renderli insostenibili. E questo è forse uno degli ambiti che vedono la maggior preoccupazione, anche nell'apertura degli stati generali che il Premier Conte ha convocato in Italia, con tutte anche le figure apicali europee, il tema demografico è stato posto fin dall'inizio come un tema di grande preoccupazione, perché c'è tutto in Europa che è in forte invecchiamento, non solo per l'aspetto positivo della longevità che fortunatamente aumenta e questo è qualcosa di cui dobbiamo essere contenti, perché è un grande risultato quello di aver abbattuto i rischi di morte dall'età infantili fino all'età anziani, adesso a ridurli anche sempre di più per vivere più a lungo. Però c'è un'Europa come poi all'interno dell'Europa alcuni paesi rispetto ai quali il crollo della natalità è particolarmente rilevante e rischia di essere ulteriormente aggravato dal lockdown, ma anche dall'impatto della crisi economica. Professor, mi scusi, ma lei ci sta dicendo che per effetto dell'emergenza sanitaria e della crisi economica gli italiani potrebbero essere oltremodo prudenti, oltremodo conservativi nel far figli e quindi potremmo ulteriormente aggravare un'attitudine che abbiamo osservato negli ultimi decenni? Esatto, sto dicendo proprio questo, le prime evidenze empiriche che abbiamo a disposizione dicono proprio che questo è il rischio. Teniamo presente che già gli italiani sono tra i cittadini europei più ipercauti nei confronti lasciati da avere un figlio per le difficoltà oggettive più accentuate rispetto agli altri paesi, conseguenza sia delle condizioni economiche delle famiglie, ma in particolare di chi deve formare la propria famiglia e scegliere da avere un figlio che sono le nuove generazioni. Teniamo presente che noi abbiamo il record di NIT in Europa, i NIT sono i giovani che non studiano e non lavorano e questo record ce l'abbiamo anche esteso fino alla fascia 30-34 anni, il che vuol dire che se noi abbiamo giovani che anziché essere pienamente inseriti nel mondo del lavoro, essere essi stessi risorsa per la crescita del paese e quindi per costruire le basi di un futuro del paese, se invece ci sono in condizione inattiva, se sono fermi, se sono bloccati, se i loro progetti di vita sono inceppati, è chiaro che la loro scelta stessa sia di autonomia dalla famiglia d'origine, sia di costruzione dei propri percorsi di vita e di scelte rischia di rimanere in sospeso. Questo era già così prima della crisi, è evidente che la crisi ha accentuato ulteriormente, cioè tutte le debolezze che l'Italia aveva prima della crisi, mettiamola così, e che frenavano la scelta di avere un figlio, la crisi l'ha ulteriormente accentuata, riguardo le nuove generazioni, riguardo l'incertezza nei confronti del futuro e riguardo la condizione femminile. Sono tre elementi chiave che hanno frenato, frenavano già in Italia la scelta di avere un figlio. Nel decennio precedente, quello che abbiamo appena concluso, è stato un decennio in cui siamo andati a battere ogni anno il record negativo di sempre dell'anno precedente, vuol dire che dopo aver toccato il punto più basso dall'unità d'Italia del numero di figli, ogni anno andavamo a battere ulteriormente a ribasso questo numero. Siamo stati il paese in Europa che ha visto maggiormente crollare le nascite negli ultimi dieci anni, ma partendo già da livelli di natalità tra i più bassi in Europa e quindi le fragilità che avevamo rischiano di essere ulteriormente accentuate. Lasciamo per un attimo da parte gli effetti del virus e osserviamo i nudi numeri, cioè la statistica. Nel censimento del 91, gli under 30 erano stimati il 10% in più dell'ultimo censimento e gli over 60 il 10% in meno. In questo arco temporale di poco meno di 30 anni abbiamo visto un incrocio delle due curve e conseguentemente per la prima volta gli over 60 sono più numerosi degli under 30. Bene, questa è la foto. Se non succede nulla, cioè se non intervengono fattori di cambiamento significativi nel medio-lungo naturalmente, a livello proprio di pensiero, che cosa può avvenire? Cerco di rappresentare la condizione in cui ci troviamo, perché l'Italia è un laboratorio da questo punto di vista, perché mette assieme tanti aspetti problematici riguardo alla struttura demografica e la sua interdipendenza con gli aspetti culturali, antropologici, sociali ed economici che fanno capire molti dei rischi che pone questo secolo alle economie e le società e gli stati che non sanno leggere le trasformazioni e dare delle risposte efficaci e adeguate che aiutano poi le persone a costruire positivamente il proprio futuro. Noi siamo uno dei paesi che è bloccato proprio su questo, cioè sulla messa nelle condizioni dei cittadini di produrre le loro scelte positive. Ad esempio, dal punto di vista femminile, la scelta sia di avere un figlio sia di lavorare. Dal punto di vista dei giovani, la scelta di conquistare un'autonomia della famiglia d'origine, trovare un adeguato lavoro e poter formare una propria famiglia. Su questo ci sono le ricadute poi collettive e per rappresentare le ricadute collettive di queste rinunce individuali che producono poi squilibri collettivi, possiamo pensare alla demografia come a un edificio. In questo edificio può andare bene, anzi può essere anche auspicabile, costruire dei piani al vertice, cioè aggiungere dei piani al vertice, che simboleggia l'idea comunque che viviamo più a lungo e quindi questo edificio può diventare più slanciato aggiungendo dei piani. Però se noi contemporaneamente all'aggiunta di questi piani per far diventare questo edificio bello, lungo, alto eccetera, andiamo a indebolire le basi e qui quindi non è più la questione positiva del vivere a lungo, ma c'è la questione della denatalità, cioè del non realizzare le scelte che comunque sono desiderate, perché se noi andiamo a chiedere, e qua abbiamo evidenze da indagini di tutti i tipi, qual è il numero desiderato di figli in Italia, questo numero desiderato di figli continua ad essere attorno ai due come media e teniamo presente che quella media attorno a due è un punto di equilibrio, perché consente a una coppia di genitori di avere due figli e quindi al ricambio generazionale di rimanere sostanzialmente in equilibrio. Cosa succede invece ai paesi in cui la fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, scende molto sotto ai due, come è successo per l'Italia e mantiene persistentemente basso questo valore, come appunto per l'Italia che adesso è attorno a 1,29 figli per donna, o almeno così l'ultimo dato istato del 2019, cioè ha una fecondità più vicina a un figlio che ha due figli e un rapporto tra due genitori e un figlio vuol dire che si produce tendenzialmente quasi un dimezzamento tra le generazioni, quindi vuol dire poi in prospettiva avere il dopo di anziani rispetto non solo ai nipoti, ai bambini, ma rispetto anche a chi arriva al centro della vita produttiva del paese, cioè l'asse portante economico del paese che rischia poi di ridursi progressivamente. Quindi se questo edificio oltre ad essere slanciato rendiamo le basi e le fondamente più debole ed è questa parte qui che rischia di rendere l'edificio instabile e a rischio di implosione. Ora la questione finora non ce la siamo posta in maniera particolarmente preoccupante perché al centro della vita produttiva del paese negli ultimi decenni c'è stata la generazione particolarmente consistente dei baby boomers, cioè dei nati negli anni 50 e 60, che quindi hanno presidiato fortemente le età più attive e più produttive che sono quelle dei quarantenni e dintorni sostanzialmente, cioè tra i 35, 40, 45, 50, 55 anni. Quindi avevamo una generazione molto consistente al centro della vita attiva del paese. Ora questa generazione particolarmente consistente si sta spostando verso l'età anziana, cioè verso l'età della pensione, verso l'età in cui non è più produttiva e al suo posto sta per essere sostituita dagli attuali under 35 che sono invece i nati dagli anni 80 in poi, ovvero nati nel momento in cui la fecondità italiana è crollata. Teniamo presente, tanto per dare un ordine di grandezza, che a metà degli anni 60 nascevano oltre un milione di bambini e dalla metà degli anni 90 in poi, dopo questo crollo, il numero di figli, il numero di bambini che nasce ogni anno è attorno a mezzo milione e adesso è sceso ulteriormente, siamo più verso le 400 mila, quindi questo fa capire il rapporto. Ora, cosa succede? Che stanno guadagnando la parte centrale della vita attiva del paese e quindi diventa l'asse portante dell'economia del paese, cioè di produzione di ricchezza e di benessere del paese, le generazioni più deboli dal punto di vista demografico, quelle indebolite dall'essere di meno dal punto di vista quantitativo. Quindi ci troveremo con tanti anziani e non solo pochi giovani, ma poche persone, molte meno persone in età attiva. Quindi avremo da un lato l'economia che farà fatica a crescere perché avremo meno persone al centro del motore della crescita del paese e quindi producono crescita, ma dall'altro oltre a avere un'economia che crescerà di meno, ci dovremo avere un peso del sistema sociale molto più rilevante, del sistema di welfare pubblico, perché avremo una spesa per la salute pubblica che abbiamo deciso ulteriormente di potenziare giustamente come anche conseguenza del Covid e di spesa previdenziale che aumenterà di più rispetto agli altri paesi. Quindi avremo, aumenta la spesa sanitaria, la spesa pubblica, diminuisce la capacità di produrre ricchezza in un paese che poi ha prodotto anche altri squilibri, cioè si trova con un debito pubblico tra i più elevati. Non solo, questi giovani che sono di meno dal punto di vista quantitativo e che si trovano in un paese che fa fatica a crescere e che sta caricando sulle loro spalle l'onere di produrre crescita, sono anche formati di meno, quindi con capitale umano più ridotto rispetto ai coetanei degli altri paesi, perché noi abbiamo una percentuale di laureati tra gli under 35 e tra le più bassi in Europa. Quindi abbiamo meno giovani, meno under 35, più bassa la percentuale di laureati tra gli under 35, più alta la percentuale di net, di giovani che non studiano e non lavorano e questa condizione la stiamo adesso nei prossimi dieci anni, perché poi gli under 35 fra dieci anni saranno nella fascia 35-45 anni, quella centrale dell'economia del paese, si troveranno ad essere di meno e se non li avremo potenziati in questi dieci anni con capacità, con competenze, con la capacità di riqualificarsi e anche mettendone nelle condizioni di produrre le loro scelte e combinare positivamente professione e scelte familiari, l'Italia avrà grande difficoltà a crescere e si troverà anche con il rischio di produrre forti disuguaglianze. Professore, detto che mi pare che lei abbia dipinto un rebus di complicatissima soluzione, e detto che probabilmente iniziative legislative come la famosa Quota 100 non ha aiutato a mantenere in un pur precario equilibrio la torre da lei descritta, vorrei che lei ci dicesse se esistono precedenti nella storia da leggere o se esistono altri paesi al presente con situazioni similari e quali percorsi sono stati disegnati dall'una o dall'altra situazione. Nella storia non ci sono situazioni simili, stiamo vivendo, tutto il mondo sta andando verso una transizione demografica in cui come conseguenza della diminuzione della natalità e dell'aumento della longevità aumenta la popolazione più matura, più anziana, è che noi abbiamo accentuato questo processo rendendo particolarmente deboli dal punto di vista demografico le nuove generazioni facendo scendere molto la natalità e tenendola persistentemente bassa per decenni e questo appunto ha eroso progressivamente le basi demografiche del paese. Quindi all'interno comunque di un grande momento di passato, stiamo presente che in passato la piramide demografica era una vera piramide, c'era una larga base che erano i giovani e poi c'era una punta stretta che erano gli anziani. Per tutta la storia dell'umanità gli anziani, gli over 60 sono stati attorno al 5% della popolazione, adesso in Italia sono il 22% e diventeranno il 33% entro la metà del secolo. Quindi questo fa capire comunque che siamo in una fase di grande passaggio nuova, di costruzione di una società, di un'economia più matura che deve essere compatibile con la possibilità in questo secolo di ridefinire anche la crescita, la sostenibilità di un'economia più matura, ma questo è possibile, è possibile valorizzando tutte le fasi della vita e quindi non solo aumenta la popolazione che arriva in età anziana, ma ci arriva in condizioni di salute molto migliore rispetto al passato, cioè non possiamo pensare che un sessantenne di oggi sia come un sessantenne di 50 anni fa o possa essere come un sessantenne tra 30-40 anni, perché c'è nata una rivoluzione anche qualitativa delle fasi della vita che noi dobbiamo valorizzare e quindi aiutare a produrre comunque valore economico e sociale in tutte le fasi. Quindi la longevità, se legata a condizioni e strumenti che consentono di vivere bene tutte le fasi della vita e di raccogliere i frutti delle varie stagioni della vita, è qualcosa che può essere molto positivo. Il problema è quando però si va a depotenziare fortemente e venire molto accentuata la popolazione giovanile, perché questo va all'alterare la struttura demografica e a renderla insostenibile, cioè va a invertire la piramide demografica, non la va a rettangolarizzare semplicemente, la va a invertire e quindi diventa effettivamente instabile. Non ci sono quindi esempi nella storia a cui possiamo riferirci, non ci sono esempi di un crollo così consistente dei giovani. Io ho utilizzato anche un neologismo per dare l'idea di questo. Noi parliamo di invecchiamento della popolazione, è anche giusto, però noi dobbiamo avere in mente che siamo in presenza di un processo che io chiamerei di de-giovanimento, perché se continuiamo a pensare che la questione sia solo quella dell'invecchiamento, continuiamo a pensare alle politiche che servono per la popolazione anziana, per gestire la popolazione anziana, per poter comunque vivere adeguatamente in età anziana. Ma ci perdiamo le conseguenze di quello che succede in una società, in un'economia in cui si riduce in maniera inedita e completamente nuova rispetto al passato, in maniera drastica, consistente la popolazione giovanile. E quindi il termine di de-giovanimento va a rappresentare un processo rispetto al quale, che è così nuovo nella storia dell'umanità, tale per cui non abbiamo nemmeno un nome per chiamarlo. Se noi andiamo a cercare sul vocabolario, sul dizionario, come si chiama un processo in cui aumenta in maniera progressiva la popolazione anziana, questo si chiama, lo trova il suo corrispondente, il termine corrispondente, invecchiamento della popolazione. Se cerchiamo un processo in cui aumenta progressivamente la popolazione giovanile, esiste un termine, si chiama ringiovanimento, perché la popolazione, a differenza delle singole persone, può anche ringiovanire se aumenta la consistenza della popolazione giovane rispetto a quella anziana. Ma se siamo all'interno di un processo in cui si riduce, si stecnicamente e progressivamente la popolazione più giovane, come lo chiamiamo questo processo? Non esiste nessun termine. Quindi abbiamo bisogno anche di creare un neologismo per identificare uno dei processi che ci sta maggiormente caratterizzando in quest'epoca e in particolare il paese. Quali sono gli altri paesi che si trovano in condizione simile alla nostra? Professore, mi scusi, da parte di un nostro ascoltatore di questo momento, Federico Barbierato, puntualizza. Italia e Giappone sono assimilabili? Hanno le stesse caratteristiche dal punto di vista dell'andamento demografico? Italia e Giappone sono molto simili dal punto di vista demografico, ma molto diversi dal punto di vista culturale e delle risposte che possono essere messe in campo e delle cause anche alla base di questa condizione demografica così simile. Quello che accomuna Italia e Giappone è la longevità. Il Giappone è il paese nel mondo con maggior longevità, il quale si vive più a lungo, e l'Italia fortunatamente è tre paesi più longevi. L'altro aspetto che caratterizza il Giappone è il crollo delle nascite e che caratterizza anche l'Italia. Inoltre il Giappone è un paese molto chiuso rispetto alla propria cultura e quindi anche molto resistente rispetto ai flussi migratori. L'Italia è stata a lungo un paese in cui l'immigrazione è stata su livelli bassi, perché anzi eravamo un paese di emigrazione, poi negli anni 80 i flussi erano tutto sommato molto bassi e solo dalla metà degli anni 90 in poi invece l'Italia è diventato un paese di immigrazione, mentre il Giappone la leva dell'immigrazione l'ha usata pochissimo. Cosa c'è di diverso però in termini di risposte? C'è comunque il fatto che il Giappone valorizza molto di più la propria componente giovanile, ovvero ha maggiori c'è una componente di disattattamento sociale dei giovani giapponesi che è legato a aspetti specifici che riguardano la loro cultura, con i giovani che si isolano, che si chiudono, però dal punto di vista della formazione, dall'innovazione tecnologica, dal punto di vista delle competenze il Giappone ha un investimento molto forte e quindi in qualche modo, e questo in parte anche succede per la Corea del Sud che ha caratteristiche simili al Giappone, cioè che ha anche lì un'ongevità che si contrappone poi a, si combina con bassa natalità, un forte investimento comunque sulla formazione dei giovani e sulla digitalizzazione e sull'investimento tecnologico. Cosa vuol dire questo? Che è vero che lì di giovani ne hanno di meno, ma su quei giovani investono molto di più e investono di più anche sui processi di automazione all'interno dei processi produttivi. Tant'è ad esempio che il tema dell'invecchiamento della popolazione gli sta cercando anche risposte attraverso la domotica, attraverso l'assistenza a distanza, attraverso le nuove tecnologie, attraverso la robotica e quindi c'è un tipo di risposta che li caratterizza. L'Italia è un po' carente su tutto, ovvero ha la carenza del Giappone rispetto alla natalità, ma è anche carente sull'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, quindi anche sull'investimento tecnologico ed è anche carente sull'investimento culturale della formazione dei giovani. Quindi è la combinazione di queste due cose, cioè di un degiovanimento quantitativo che in Italia paradossalmente è anche degiovanimento qualitativo, cioè un paese che investe poche risorse nei confronti delle nuove generazioni e che quindi le disperde molto, risperde molto il loro capitale umano, quindi si trova con un'alta percentuale di NIT e con molti giovani, magari molto preparati, che decidono di andarsene all'estero. Un altro caso interessante, se vogliamo più vicino a noi, è quello della Germania. La Germania ha avuto un crollo della natalità simile al nostro ed è forse il paese da cui possiamo imparare un po' di più, perché la Germania ha risposto agendo su tutte le leve, aumentando la formazione dei giovani, aumentando l'investimento, ricerca, sviluppo e innovazione, quindi i processi di automazione, di industria 4.0, potenziando le politiche attive del lavoro e quindi formando bene i giovani che ha, inserendoli bene nel mondo del lavoro e facendo in modo che la loro produttività possa essere potenziata anche dalle nuove tecnologie. Non solo, attrae giovani qualificati da altri paesi e molti giovani italiani vanno in Germania, non solo, ha deciso, oltre all'investimento su formazione di nuove tecnologie, oltre all'investimento sull'inserimento qualificato dei giovani nel loro sistema produttivo, stiamo presente che il tasso di NIT in Germania è bassissimo, la Germania ha deciso anche che questo non basta, non basta rispondere alla riduzione dei giovani migliorando la loro condizione attiva e qualificata e includendoli al meglio, visto che ne ha pochi all'interno del sistema produttivo, ma ha deciso di aumentare anche la componente quantitativa delle nuove generazioni, non solo attraendo giovani qualificati da altri paesi, ma decidendo di mettere in campo un forte piano di rilancio della natalità, che ha previsto un maggior sostegno economico alle famiglie con figli, ha riaggiustato la politica nei confronti dei servizi per l'infanzia per migliorare la conciliazione tra lavoro femminile e famiglia, ha disegnato quindi un pacco, un piano, un pacchetto di politiche solide, ispirandosi alle politiche più virtuose realizzate anche in altri paesi e adattandola al caso della Germania e lo ha fatto durante la precedente recessione economica, quindi dando anche un segnale positivo alle famiglie che nel momento di maggior difficoltà la Germania interveniva per aiutarle a sostenere la loro condizione economica e le loro scelte di vita. Questo ha avuto successo, tant'è che nell'ultimo decennio che ha visto il crollo delle nascite in Italia, ha visto invece l'inversione della tendenza della natalità in Germania, cioè la Germania nell'ultimo decennio è stato il paese in Europa che ha visto la maggior crescita quantitativa delle proprie nascite, mentre l'Italia è stato il paese che ha visto il maggior crollo delle proprie nascite. La Germania che partiva dal 2008 con una fecondità più bassa addirittura rispetto all'Italia è andata a convergere progressivamente verso la media europea, mentre l'Italia che era un po' superiore alla Germania è andata invece a pregiorare gradatamente. Cosa vuol dire? Che la Germania negli ultimi 10 anni ha aggiustato anche la parte che la vedeva più debole rispetto alla natalità e che quindi l'ha rafforzata e quindi si trova adesso con un invecchiamento della popolazione che ha anche una risposta attraverso un aumento delle nascite che farà sì che nei prossimi decenni Italia e Germania si troveranno con un numero di anziani in senso relativo pressoché analogo, ma la Germania avrà una popolazione molto più consistente al centro della vita attiva e quindi in grado di produrre maggior crescita, sia perché saranno di più, sia perché saranno maggiormente inseriti e qualificati inseriti nel mondo del lavoro e sia perché potranno utilizzare al meglio le nuove tecnologie per produrre crescita e ricchessa da ridistribuire. Su scala continentale, oltre al benchmark tedesco, c'è anche il modello francese. Proviamo a vedere in che cosa consiste e in che misura potrebbe essere replicabile anche in Italia. La Francia è l'altro caso interessante. Prima che la Germania avesse questa performance negli ultimi dieci anni, il caso che si citava nel dibattito italiano sulle politiche familiari era quello della Francia, perché la Francia è un paese che da sempre fa politiche familiari e le rafforza continuamente e quindi investe in maniera solida sulle politiche familiari e sul sostegno alla natalità. La conseguenza di questo è che la fecondità francese non è mai scesa molto sotto i due figli per donna, mentre in Germania è scesa molto, hanno detto che addirittura è scesa anche sotto il livello italiano, quindi vuol dire molto in basso e poi è risalita. Quindi è un caso interessante del fatto che si può invertire la tendenza, cioè la Germania dimostra che si può invertire la tendenza. Il caso della Francia dimostra che nei modelli delle società moderne avanzate sono compatibili stili di vita e obiettivi professionali con una fecondità vicino ai due figli per donna. Che sia stati in periodo di emergenza o di normalità, che ci fossero governi di centro-destra, di centro-sinistra o di emergenza di qualsiasi tipo o tecnici, la Germania non ha mai messo in discussione le proprie politiche familiari e le ha considerate un ambito strategico su cui investire. Il caso della Francia è interessante perché è entrato proprio nell'impostazione culturale l'idea che la scelta di avere un figlio sia una scelta personale, ovviamente individuale, ma il costo di avere un figlio non deve essere semplicemente un costo addossato sui singoli e sulle famiglie perché la scelta di avere un figlio è anche un valore collettivo perché aiuta anche poi all'economia ad essere più solida e a crescere di più. Quindi gli squilibri demografici che ha prodotto la Germania e che sta risanando, che ha prodotto l'Italia e che sta accentuando, la Francia non li ha mai avuti perché sostanzialmente lo sintetizzo in questo modo. Se noi andiamo a vedere la curva demografica della Francia, anzi se noi andiamo a guardare quella dell'Italia, vediamo che noi abbiamo molti cinquantenni e sessantenni perché derivano dalle generazioni del baby boom, abbiamo molti meno quarantenni di cinquantenni, abbiamo molti meno trentenni di quarantenni, abbiamo molti meno ventenni di trentenni e così via. La denatalità riduce progressivamente le basi demografiche e le generazioni più giovani. Se invece andiamo a vedere il profilo demografico della Francia, proprio perché ha mantenuto una fecondità attorno ai due figli per donne attraverso politiche familiari solide e confermate continuamente e potenziate, il numero di quarantenni è simile a quello dei cinquantenni, il numero dei trentenni è simile a quello dei quarantenni, il numero di ventenni è simile a quello dei trentenni e quindi la base demografica francese è solida. Non c'è uno squilibrio come quello prodotto dal nostro paese e quindi vuole dire anche avere poi una base che produce benessere e ricchezza che poi può essere distribuita anche per investire su tutte le fasi della vita e sulla condizione anziana, mentre noi rischiamo appunto di dover investire sulla sostenibilità dell'aumento della popolazione anziana, ma avendo meno persone che producono a produrre quella ricchezza che sono le nuove generazioni. Quindi l'idea della Francia di pensare alle politiche familiari come parte integrante delle politiche di sviluppo e di considerare la scelta di avere un figlio come una scelta che ha anche un valore collettivo e su cui intervenire anche con politiche fiscali adeguate come il consciente familiare che riconosce il carico familiare nella tassazione, quindi non solo individuale ma collettivo e che esplicitamente riconosce il carico di figli e su cui interviene poi lo Stato per contribuire, oltre a politiche sui servizi per l'infanzia, sulla conciliazione e sui congedi eccetera, ne fa appunto un caso di un paese che è riuscito a evitare quel degiovanimento e invece altre realtà hanno subito e cercano con più o meno successo di risolverlo. Professor, proviamo a dare con la consistenza dei numeri e delle previsioni demografiche che è un esercizio da scienza esatta la demografia in questo senso, proviamo a dare una prospettiva ai prossimi 10 o 20 anni, dopo 70 anni di crescita della popolazione italiana siamo a circa 60 milioni, 60 milioni e 400 mila l'ultimo rilevamento se non ricordo male, abbiamo avuto per la prima volta un indicatore con il segno meno davanti, allora quanti di meno saremo tra 10 anni o tra 20 anni se non interverranno importanti fattori di novità, poi vedremo quali possono essere i fattori di novità. Allora, c'è un'altra premessa da fare a questi dati, perché la demografia ha un vantaggio, ha una chiave di lettura che guarda il cambiamento non solo sull'istante, sul giornaliero, sulla settimana come fa l'economia o la politica, ma ha ampio sguardo, quindi va a riconoscere le grandi dinamiche delle trasformazioni del passato, degli ultimi decenni e va a proiettare gli scenari verso il futuro e riesce a farlo in maniera molto più consistente rispetto a qualsiasi altra previsione, perché se noi non sappiamo fra 20 anni quanto sarà il prodotto interno lordo, quanto saranno gli occupati, il tasso di occupati, quanto saranno le persone sotto la soglia di povertà, sappiamo quanti sessantenni noi avremo fra 20 anni, perché sono gli attuali quarantenni, noi semplicemente facciamo invecchiare con ipotesi tutto sommato accettabili gli attuali quarantenni, ce li troveremo a 60 anni e gli ottantenni fra 20 anni sono gli attuali sessantenni, possiamo comunque fare delle ipotesi che sono abbastanza. Quindi questo ci consente comunque di andare a definire l'intelaiatura, cioè l'impalcatura della componente umana di questo paese, cioè la demografia, cioè le persone per età, in maniera abbastanza solida. Quello che noi dovremmo fare quindi è, sapendo che quello lì è il percorso, sapendo che la struttura demografica, questa impalcatura evolverà in questo modo, cercare di capire come costruire attorno a questa impalcatura qualcosa che è sostenibile dal punto di vista economico e sociale e possa funzionare. Ora, c'è però un elemento meno prevedibile di altri e che è risultato effettivamente meno prevedibile di altri e che sono le nascite. Se noi andiamo a vedere le previsioni che faceva l'Istat nel 2011 rispetto a quanto sarebbero state le nascite nel decennio scorso e quindi anche le nascite nel 2019, nel 2020 eccetera, troveremo una natalità e un numero di nascite molto più elevato, sensibilmente più elevato di quello che effettivamente si è realizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire, tra l'altro l'Istat nel 2011 prevedeva che la popolazione italiana sarebbe andata a diminuire molto più in là nel tempo, nel 2030, nel 2035, molto più in là, mentre la diminuzione della popolazione è iniziata molto prima. Perché è iniziata molto prima? Perché la natalità è diminuita molto di più rispetto a quello che si poteva prevedere. Evidentemente c'è stato il contraccolpo della precedente recessione economica, evidentemente è aumentata l'incertezza nei confronti del futuro, evidentemente l'Italia non ha un progetto chiaro di crescita e la scelta di avere un figlio è la scelta che è diventata più sensibile alle condizioni dell'oggi, ma anche alle prospettive del proprio futuro e della collettività del paese in cui si vive. Evidentemente le politiche messe in atto non sono state in grado di consentire alle nuove generazioni di conquistare l'autonomia, formare una propria famiglia e dal punto di vista delle coppie di conciliare lavoro e famiglia e quindi quella scelta pur desiderata è rimasta in sospeso. Quello che quindi è lo scenario verso cui andiamo non è tanto il fatto che la popolazione possa diminuire e quanto diminuisca, perché diciamocelo chiaramente, cioè il fatto di essere 60 milioni o anziché essere 60 milioni di essere 58 milioni o di essere 56 milioni, tutto sommato che differenza fa? Ci cambia qualcosa? Probabilmente no, ma la questione che preoccupa è come è distribuita questa popolazione. Ora, se anche noi rimanessimo 60 milioni, in realtà andremmo a diminuire di circa 1 milione o 2 milioni nei prossimi decenni e quindi scendere verso 59-58 milioni, dipende poi dall'ipotesi che facciamo sull'andamento della natalità. Ma quello che preoccupa è che avremo ritmi di crescita opposti tra la popolazione anziana che andrà a crescere in maniera molto consistente e la popolazione giovane, ma adesso sempre di più anche la popolazione in età lavorativa che in corrispondenza andrà a diminuire ancora di più rispetto a quanto crescerà la popolazione anziana. Ed è questo che preoccupa, quindi che avremo una popolazione complessiva che diminuirà, ma all'interno della popolazione che diminuisce avremo una popolazione anziana che crescerà, la popolazione anziana da qui al 2050 aumenterà gli over 65 almeno di altri 4 milioni e mezzo, 5 milioni, anche qui dipende un po' dalle ipotesi, e la popolazione degli under 65 diminuirà di 5-6 milioni e in particolare a diminuire di più perché la popolazione poi più giovane si è stabilizzata, perché appunto la diminuzione delle nascite è scesa così tanto che le variazioni relative tutto sommato incidono fino a un certo punto, adesso la grande perturbazione è al centro della vita attiva del paese e quindi noi vedremo, e anche questo è l'allarme che ha lanciato il governatore Visco anche nelle ultime considerazioni finali che ha fatto, noi avremo un crollo di oltre 3 milioni e mezzo di persone al centro della vita lavorativa nei prossimi decenni e se già l'Italia adesso fa fatica a crescere, proviamo a pensare all'Italia di adesso riducendo di 3 milioni e mezzo le persone in età attiva e aumentando di circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni la popolazione in età anziana. Professore, abbiamo ancora 7-8 minuti e ho due domande da porle in conclusione. La prima trae spunto da una ricerca dell'Istituto Toniolo, ricerca che rileva che non ci sono differenze significative nei piani di vita manifestati da giovani italiani rispetto a giovani degli altri paesi europei, rispetto per esempio al tema dell'aver figli o di quanti figli avere. E allora che cosa interviene perché poi tutto ciò non si manifesti, rimanga in potenza? Sì, questo è il dato comunque positivo, cioè se noi confrontiamo questi dati, ce lo dicono in maniera abbastanza inequivocabile, perché poi le indagini che facciamo con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è la principale indagine sulle nuove generazioni in Italia, sono anche indagini non solo rispetto ai giovani italiani, ma comparative anche con i giovani francesi, spagnoli, tedeschi e del Regno Unito, quindi ci aiutano a capire anche il diverso atteggiamento che i giovani europei hanno e confrontarlo quindi con la condizione dei giovani italiani e con le aspettative dei giovani italiani e con i loro progetti di vita. Se si confronta un ventenne italiano con un coetaneo europeo, dal punto di vista delle aspettative, dei progetti di vita, del desiderio di dimostrare quanto vale, della fiducia in se stesso non c'è praticamente differenza, addirittura anche sulla fecondità, sia sui progetti professionali, ma se si chiede a un giovane italiano e lo si confronta con un giovane francese e gli si dice tu quanti figli in un mondo ideale in cui tutte le cose andassero come desideri, che tu riesca a avere il lavoro che desideri, a realizzarti eccetera, quanti figli vorreste avere? Bene, se confrontiamo il valore che otteniamo è superiore a due figli per donna e se lo confrontiamo con il dato francese siamo lì, anzi è addirittura un po' più alto per gli italiani. In Germania invece è un po' più basso, questo è interessante perché fa capire come le politiche poi tedesche sono riuscite anche a essere più compensative rispetto anche all'atteggiamento dei tedeschi rispetto all'avere figli, perché questa propensione avere figli è un po' più bassa tra i tedeschi rispetto ai francesi e agli italiani. Quello che succede però è quello che cambia nel corso di transizione alla vita adulta di un ventenne che parte italiano con un coetaneo francese, tedesco, Regno Unito eccetera. Che cosa succede? Che il giovane italiano si trova con più difficoltà a realizzare il percorso di transizione scuola-lavoro, quindi con una formazione spesso meno solida e non a caso noi siamo uno dei paesi che investono di meno sia in formazione professionale e sia in formazione terziaria rispetto alla media europea, abbiamo meno giovani e investiamo di meno sulla loro formazione. Poi tra quelli a parità di formazione noi investiamo anche di meno sulle politiche attive del lavoro, cioè quei servizi di matching tra domande offerte del lavoro, quindi i servizi per il lavoro che consentono quindi alle competenze dei giovani di essere adeguatamente poi collocate all'interno del mondo del lavoro, anche qui investiamo di meno rispetto agli altri paesi. In Italia più facilmente e ancora oggi si trova lavoro attraverso le conoscenze che rispettano i canali formali efficienti per trovare lavoro. È chiaro che i canali formali efficienti dei servizi per l'impiego e del matching tra domande offerte aiutano il giovane ben formato con le competenze giuste a trovare la collocazione giusta richiesta nel mondo del lavoro, aiutare a riqualificarsi per essere ben inserito, dove questi servizi mancano il giovane si trova un po' abbandonato a se stesso in un mondo del lavoro che sembra più complesso e rischia di diventare NEET oppure di trovare il lavoro che capita, quello più facilmente raggiungibile in base alle conoscenze che può avere, le spinte che può avere. Terzo punto, noi investiamo di meno in ricerca, sviluppo e innovazione, quindi investiamo di meno in quei settori che possono offrire lavoro di qualità, che fanno leva sul capitale umano dei giovani e sulle idee dei giovani che possono diventare prodotti e servizi che allargano il mercato, quindi che non pensano i giovani semplicemente come nuovi che arrivano e che devono sostituire un anziano che va in pensione. Questo succede solo in un'economia che non cresce e in un paese che non crea nuove opportunità. Le nuove generazioni devono arrivare con nuove competenze, con la loro intraprendenza e con nuove opportunità che consentono a questa nuova intraprendenza e al loro capitale umano di arricchire e di allargare il mercato e questo noi lo facciamo di meno perché investiamo di meno, ripeto, ricerca e sviluppo e innovazione e semmai questi giovani che hanno voglia di allargare con le loro idee e con la loro intraprendenza e con il loro capitale umano l'economia e produrre qualcosa di nuovo trovano più opportunità negli altri paesi che in Italia. Quindi in tutto il percorso e poi si trovano anche con politiche familiari, quindi politiche dell'abitazione più carenti, politiche di conciliazione fra lavoro e famiglie più carenti e quindi si trovano a posticipare continuamente rispetto ai loro desideri l'età in cui diventano autonomi dalla famiglia d'origine, l'età in cui formano una propria famiglia, l'età in cui stabilizzano nel proprio percorso professionale e l'età in cui si sentono abbastanza sicuri per scegliere di avere un figlio. Non a caso siamo uno dei paesi con non solo più bassa fecondità ma anche in Europa tra quelli che rimandano di più l'età al primo figlio, cioè l'arrivo del primo figlio e questo fa capire le difficoltà dei giovani che portano quella scelta a rinviarla continuamente al di là delle loro desideri e aspettative, ma uno potrebbe dire vabbè ma in fondo sì ok che voi dell'osservatorio giovane dite che tutto sommato nei progetti di vita non c'è molta differenza, ma noi pensiamo che i giovani italiani siano bamboccioni, che in qualche modo vogliono la vita facile e che se posticipano l'età di uscita a casa dei genitori e in cui hanno i loro figli e hanno un proprio figlio e si prendono questa responsabilità è perché loro non hanno voglia di impegnarsi più di tanto e di non prendersi questi questioneri. Il riscontro di questo ce l'abbiamo su quello che succede ai giovani che effettivamente riescono a formare una propria famiglia e ad avere dei figli. Noi siamo il paese con più alto rischio di povertà per le famiglie under 35 con figli, cioè se noi confrontiamo il rischio di povertà delle famiglie formate da over 65 e andiamo a vedere il rischio di povertà delle famiglie con capofamiglia under 35 in presenza dei figli, bene il rischio di povertà di queste seconde famiglie è il doppio rispetto al rischio di povertà degli over 65. Questo è il riscontro che sia un paese che non è un paese per giovani, che non mette i giovani né nelle condizioni di credere nei propri progetti, di realizzarli, di dargli sostegno alla possibilità di investire su di loro e di accompagnarli nella loro realizzazione, sia che siano politiche del lavoro che gli consentano quindi di essere ben formati, essere ben inserite nel mondo del lavoro e essere ben valorizzate all'interno delle aziende e delle organizzazioni e sia con politiche che gli aiutano a trovare una casa, ad avere una casa con un affitto accessibile e che gli consentano poi una volta che hanno un figlio, che non diventa una complicazione nel combinare impegno lavorativo e avere un figlio, quindi a rinunciare al lavoro o a rinunciare ad avere un figlio e si trovano quindi anche col rischio poi di rinunciare ad avere un figlio in più e a trovarsi anche col rischio di maggiore impoverimento. Siamo un paese che ha abbandonato, che ha reso sostanzialmente l'unico ammortizzatore sociale e passivo che hanno i giovani la famiglia d'origine e che crea anche molte disuguaglianze, perché i giovani che hanno una famiglia d'origine che li può aiutare, la vera scelta che hanno i giovani italiani è la famiglia in cui nascere, perché se ti scegli la famiglia giusta, poi avere un aiuto per essere ben formato, quindi motivato, ben formato, aiutato a inserire nel mondo del lavoro, aiutato nell'acquisto dell'abitazione, aiutato nell'anfitto. La domanda è, dal Family Act che è stato di recente approvato dal governo, dal suo punto di vista possono arrivare risposte corrette, profonde, di lungo periodo, capaci di determinare le condizioni di un progetto paese nel quale i giovani possano sentirsi coinvolti e conseguentemente fondare i propri progetti di vita che diventano, per la verità, anche progetti di società? Sì, infatti questo è un po' l'auspicio assolutamente, perché c'è anche la discontinuità comunque prodotta dall'emergenza sanitaria che deve diventare l'occasione per mettere il paese sui binari giusti e noi possiamo solo tornare a crescere, in base a tutto quello che abbiamo detto, solo se promuoviamo un contributo qualificato delle nuove generazioni all'interno di un processo di crescita del paese che ridia forza alle nuove generazioni, sia dal punto di vista quantitativo, perché altrimenti gli squilibri continueranno ad aumentare, sia dal punto di vista qualitativo, cioè nel promuovere la loro formazione e le loro scelte. Ora, perché altrimenti il rischio è quello che alla fine di questa emergenza rimanga solo un debito pubblico più elevato, noi dobbiamo investire su chi può produrre benessere e ricchezza nei nuovi tempi, interpretando al meglio la sfida che l'Italia ha e che non possono essere nuove generazioni caricate positivamente, non di debito pubblico negativamente, ma positivamente di un impegno a diventare protagonisti di un paese che cresce con loro. Ora, il Family Act non è una bacchetta magica, sicuramente non risolverà immediatamente tutto quello che sono i limiti che avevano le politiche familiari italiane, però va nella direzione giusta, cioè esattamente se verrà realizzato nel modo in cui è stato progettato, va nella direzione di fare quello che ha fatto la Germania negli ultimi dieci anni, producendo dei risultati interessanti, come abbiamo detto addirittura invertendo la curva demografica e noi assolutamente abbiamo bisogno di invertirla e lo ha fatto proprio nel momento di maggior difficoltà delle famiglie e dei giovani, perché appunto ha dato una risposta positiva anche simbolicamente durante la recessione economica precedente, mentre noi le famiglie e i giovani nella precedente recessione economica le abbiamo abbandonate a se stessi, con la conseguenza che le scelte sono diventate ancora più rimaste in sospeso e riviste al ribasso. Ora in questa difficoltà, in questo momento di difficoltà che si scelga di puntare sul Family Act e che poi concretamente, per questo sarà poi la prova, si vada a rafforzare sia il sostegno economico attraverso l'assegno unico universale che fa capire che le politiche familiari non solo politiche solo di contrasto alla povertà, ma devono essere un sostegno che viene percepito concreto anche dal ceto medio, quindi se l'assegno sarà in grado quindi di essere percepito come qualcosa di consistente anche per il ceto medio, è chiaro che diventerà una spinta rilevante nella scelta di avere un figlio e nel ridurre il rischio poi di incertezza e di trovarsi in difficoltà. Oltre che agire sul sostegno economico, agisce sui servizi perché si pone anche l'obiettivo di ridurre questa copertura disomogenea che fa sì che l'Italia abbia servizi per l'infanzia su livelli molto più bassi rispetto agli altri paesi, ma con grande differenza fra nord e sud del paese e non è un caso che la natalità sia crollata di più nel sud del paese dove appunto i servizi di welfare per l'infanzia sono minori e dove anche l'occupazione femminile è più bassa e quindi potenziare i servizi per l'infanzia e intervenire anche sul sostegno alle rette, cioè renderli effettivamente accessibili, anche questo va nella direzione auspicata. Il terzo asse oltre al sostegno economico oltre a quello dei servizi è quello del tempo perché incide sulla conciliazione e sono i congedi parentali, anche qui il Family Act come pacchetto integrato prevede un rafforzamento dei congedi e poi aiuta anche un cambiamento culturale rispetto ai compiti e alla condivisione dei compiti di cura all'interno della famiglia perché si porta in particolare il congedo di paternità a dieci giorni e quindi andandolo a conformare alla direttiva europea. Quindi c'è una direzione che viene presa che va a portare gli investimenti sulle famiglie, quantomeno verso la media europea, che va a ridurre la disomogeneità di queste misure e la frammentazione che finora c'è stata e lo fa nel momento di maggior difficoltà delle famiglie e incoraggiando quindi i paesi a rafforzare anche un suo clima di fiducia nei confronti del futuro, dando strumenti per dare sostegno a quella scelta e dando un segnale che quella scelta è una scelta su cui il paese scommette e su cui ha intenzione di far partire un processo. Questa è però la cosa che dovremmo vedere, cioè se il Family Act viene considerato un punto d'arrivo non ci siamo perché queste politiche da sole non sono in grado di invertire in maniera solida la curva demografica negativa. Se il Family Act diventa il punto di partenza di un cambio di paradigma rispetto alle politiche familiari che diventano parte integrante delle politiche di sviluppo del paese, aiutando a interagire positivamente la scelta di avere un figlio, l'occupazione femminile, la condizione dei giovani e il rischio di povertà infantile, allora l'Italia potrebbe essersi messa in un percorso che potremmo guardare con fiducia e da cui potremmo vedere anche dei risultati positivi. Bene, professore la ringrazio di questo dialogo, ringrazio anche chi ci ha seguito, dobbiamo evidentemente augurarci che il Family Act non sia il tris di altri due annunci che abbiamo avuto già nel 2006 e nel 2012, quando per l'appunto stavamo andando nella direzione giusta secondo gli osservatori e per la verità per le politiche previste dai governi dell'epoca e poi francamente non se ne è fatto nulla e siamo qui a distanza di 14 anni a discutere di un fenomeno che era largamente prevedibile e francamente anche previsto. La ringrazio, buon pomeriggio a lei e a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie.